Equipaggiamento racconto Ma lei è un cattivo ragazzo proprio Con ste cazzo De granate Eh raga ma ne volete uccidere qualcuno Pure voi? Siamo a 5 5 uccisioni le ho fatte io ma Cioè ma tutto appunto Sei Ti può mai andare peggio Ti vuole squadre che mi so Nooo tocca tutto di sotto Ma vaffanculo Oh ma che cazzo Cioè quello è proprio degno Sì 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 ma è andato in giro a farsi Con l'an... Non mi vengono le parole Non mi vengono Oggetti potenziati ora disponibili Eh molto belli l'anima Ma guarda questo con la macchina Deci muoio perché mi hai spostato Ma voi da che parte state? Ma da che parte state? Sabotatori Granata frammentazione partita Armi potenziate sul campo Rede il nascondino Rede il nascondino Ma che cazzo? No Oh no cosa mi dice che c'è sì non sto andando bene per voi non sta andando proprio bene vabbè questa grida proprio area da boss oh no quest'arma qua vai via vai via io però vorrei andare via la bandiera perché ammazzarvi non è che mi interessa molto sinceramente non si usa così il rampino penso è sparato il tuo cadavere mi dispiace per te ma ho capito chiaramente devi vedere un muovendo un attimo io penso già domani di gesù bambini in croce sono passibile di qualcosa volevo fare un rapido ragazzi la tua squadra sta ottenendo punti mamma mia casa mia b non la lascio a nessuno porca puttana la tua squadra sta ottenendo punti